Lo avevano inseguito per i vicoli del Borgo Vecchio e per le strade del centro. Dopo averlo accoltellato a una mano, la lama era passata da parte a parte e forse Alessandro aveva tentato di difendersi. I due assalitori non avevano desistito, ma la vittima era riuscita a seminarli. Secondo la ricostruzione della questura, l'aggressione che si è verificata un paio di settimane fa in Piazza Pepe a Campobasso durante la notte avrebbe potuto avere un esito analogo a quello di Alatri. Tutto era nato per un drink, almeno questo era parso di capire all'inizio dell'accaduto, ma poi le indagini della squadra volante e della polizia hanno messo in fila i tasselli di un mosaico diverso. Due balordi di 25 e 24 anni, entrambi di Campobasso e tutti e due facce note negli archivi della questura, avrebbero agito a scopo di rapina. Il più grande dei due, alla reazione della vittima, è estratto un coltellaccio da cucina e incitato dal suo compagno ha tirato un fendente che il ragazzo aggredito ha parato con una mano. Poi l'inseguimento da via Ferrari fino a Villa Flora. Alla scena, nonostante l'ora tarda, avevano assistito alcuni testimoni che hanno avvisato la polizia e proprio in Villa Flora, quando i due delinquenti avrebbero potuto raggiungere il ragazzo in fuga, è arrivata una pattuglia della volante. Messo insieme il racconto del ragazzo e quello dei testimoni, gli investigatori hanno chiuso il cerchio intorno ai due. Il più grande, che ha usato il coltello, è stato portato nel carcere di via Cavour con l'accusa di rapina aggravata dall'uso delle armi e lesioni personali. Il 24enne ha ottenuto i domiciliari e per lui l'accusa è di concorso in rapina. Il giovane accoltellato se l'è cavata con una mano squarciata, ma secondo gli investigatori, se i due l'avessero raggiunto, l'epilogo sarebbe potuto essere ancora più grave.